Volete la risposta? Sarebbe troppo bello. No, perché vi avrei meno all'insegnamento di Leonardo, cioè la risposta è nella ricerca. Tutti questi passaggi leonardeschi non sono frutto della mia cultura accademica, sono frutto di una conoscenza, di un incontro a Milano con uno dei più grandi studiosi di Leonardo, che è l'ironia funzionale di Luca Caricato. E quello che vi vedete dietro, vi assicuro che la trasmissione dei valori di Leonardo non è stata dolorosa, quindi l'immagine è soltanto un replicare l'immagine. Fate così, lui si chiama Luca Caricato, è un ricercatore, poi cercatelo sui social e gli chiedete com'è, dacci la soluzione, lui si farà delle grandi risate, non c'è un cazzo da fare quello lì, che è andare in giro a dare il mio nome, e un esperto straordinario di Leonardo vi darà la risposta.